Lo sa che i bambini comunisti stanno studiando anche il modo di contaminare il sas, la farina, i succhi di frutta, i succhi di farina, la farina comunista. Lei sa cos'è la farina? No. Dall'altra parte. Dove vuol portarmi? Dall'altra parte. Vuole sapere cosa penso? Io penso che lei sia un cancello. Lì c'è un presidente degli Stati Uniti. E lei vorrebbe parlare col presidente degli Stati Uniti? Io sono il presidente del Cessi Pugge. Aspetti signorina, io sono il distributore di Coca-Cola. Ma lei non ha 50 centesimi? Ma io...